è facile vedere l'ovvio compiere le azioni previste la tendenza delle vite individuali è statica piuttosto che dinamica e questa tendenza è trasformata in impulso della civiltà dove si vede solo l'ovvio e dove raramente accade l'imprevisto tuttavia quando l'imprevisto si verifica e quando è abbastanza grave i netti periscono e se infatti non vedono ciò che non è ovvio non fanno azioni impreviste e sono incapaci di adattarsi dopo una vita ben regolata a schemi diversi in breve quando giungono al termine del loro solco muoiono d'altra parte esistono persone che lottano per la sopravvivenza individui che sfuggono alla regola dell'ovvio e del prevedibile e sono capaci di adattarsi a qualsiasi solco per quanto singolare in cui possono capitare o vi siano costretti con la forza edith whitelessy era una di queste persone era nata in una zona rurale dell'inghilterra dove la vita procede a lume di naso e l'imprevisto è tanto imprevisto da essere considerato quasi un fatto immorale andò presto a servizio e ancora giovane proprio per questo procedere a lume di naso diventò la cameriera di una signora l'effetto della civiltà sull'ambiente è quello di imporgli una legge umana fino a renderlo regolare come una macchina in altre parole viene soppresso tutto ciò che è deplorevole e si prevede l'inevitabile la pioggia non ci inzuppava più e il freddo non ci faceva più rabbrividire anche la morte non ci accerchiava più furtiva e spaventosa diventava invece una processione prevista diretta lungo un solco ben oliato alla tomba di famiglia dove i cardini sono liberi dalla ruggine e la polvere viene tolta di continuo questo era l'ambiente di edith wesley non accadeva niente fu appunto possibile definirlo un avvenimento quando a 25 anni edith accompagnò la padrona in un viaggio negli stati uniti il solco si limitò a mutare direzione ma era sempre lo stesso solco profondo e ben oliato era un solco che attraversava senza intoppi l'atlantico e la nave non era più una nave in mezzo al mare ma un grande albergo pieno di corridoi che si spostava rapido e sicuro schiacciando le onde con la sua massa in mane fino a rendere il mare uno stagno tranquillo e monotono e sull'altra sfonda il solco proseguì sulla terra un solco ben disposto rispettabile che forniva alberghi ogni tappa e alberghi su ruote fra le soste ci cago mentre la padrona scopriva un aspetto della vita di società edith wesley ne vide un altro e quando lasciò il servizio e divenne edith nelson tradì sepultimitamente la capacità di affrontare l'imprevisto e di dominarlo hans nelson un'immigrante svedese di professione falegname aveva quell'inquietudine tipicamente teutonica che spinge la razza sempre più a ovest nella sua grande avventura era un uomo muscoloso forse un po lento che univa la scarsa immaginazione a un immenso spirito di iniziativa e capace di una lealtà e di un affetto solidi quanto la propria forza quando avrò lavorato sodo e risparmiato abbastanza andrò nel colorado aveva detto ad edith il giorno dopo le nozze e un anno dopo erano in colorado dove hans nelson vide la prima miniera e fu contagiato dalla febbre dell'oro le sue ricerche lo condussero nei due dakota in idao nell'oregon orientale e sulle montagne della columbia britannica edith gli stava sempre accanto nel campo e sulla pista dividendone la fortuna la fatica e il duro lavoro il passetto breve da donna di casa si trasformò nell'andatura lunga del montanaro prese a considerare il pericolo con mente lucida e comprensione perdendo per sempre il timor panico che deriva dall'ignoranza e che colpisce chi è nato e vissuto in città rendendolo stupido come un cavallo così che aspetta il destino gelato dall'orrore invece di affrontarlo e lo fa fuggire alla cieca sordo al terrore autodistruttivo che affolla la strada con le sue carcasse frantumate hans nelson incontrò l'imprevisto a ogni curva della pista e a sue fece gli occhi a vedere nel paesaggio non l'ovvio ma ciò che vi era di nascosto mai prima di allora aveva cucinato eppure imparò a preparare il pane senza lupolo lievito lievito in polvere e a cuocerlo sopra e sotto in una padella sopra un fuoco e quando terminò l'ultima tazza di farina e l'ultima cotenna di pancetta riuscì ad essere all'altezza della situazione e a rendere in qualche modo accettabile come cibo i mocassini e gli indumenti di cuoio più morbidi così da tenere assieme anima e corpo in un uomo e permettergli di avanzare magari barcollando imparò anche a caricare i cavalli bene come un uomo un'impresa tale da spezzare il cuore e l'orgoglio di qualsiasi cittadino e a intrecciare il nodo più adatto a ogni tipo di carico sapeva anche accendere un fuoco con legna umida sotto il rovescio di pioggia e senza perdere la calma in breve fu in grado di padroneggiare l'imprevisto in tutte le sue forme ma il grande imprevisto doveva ancora entrare nella sua vita per metterla alla prova la marea dei cercatori d'oro dilagava a nord sommergendo l'alaska e fu inevitabile che hans nelson e sua moglie venissero raggiunti dalla corrente e spinti verso il klondike l'autunno del 1897 li trovò ad aea ma senza denaro per trasportare l'equipaggiamento oltre il passo chalcutt e mandarlo giù per il fiume fino ad ozon così quell'inverno hans nelson tornò al suo antico mestiere di falegname e dette una mano a costruire skyway una città dove non ci si equipaggiava e che in quel periodo cresceva come un fungo hans nelson si trovava proprio sul margine degli avvenimenti e per tutto l'inverno ascoltò il richiamo dell'alaska ma il richiamo più forte veniva dalla latuia bay e così l'estate del 1898 sorprese lui e la moglie nei labirinti fastagliati della costa su canoe sea wash lunghe 20 metri con loro si trovavano tre indiani e altri tre bianchi sbarcarono gli indiani con l'equipaggiamento in una insenatura a circa 240 chilometri dalla latuia bay e tornarono a skyway ma gli altri rimasero perché facevano parte del gruppo organizzato ciascuno aveva messo una parte uguale di denaro nell'acquisto dell'equipaggiamento e allo stesso modo sarebbero stati divisi i profitti edith nelson accettò di cucinare per il gruppo e così la sua parte sarebbe stata uguale a quella degli uomini come prima cosa tagliarono alcuni abeti e costruirono una capanna di tre stanze compito di edith era di aver cura di questa capanna compito degli uomini era cercare oro cosa che fecero e di trovarlo e fecero anche questo non era un grande giacimento ma uno che rendeva poco diciamo da 15 o 20 dollari al giorno con due ore di dura fatica la breve estate dell'alaska si protrasse più a lungo del consueto e il gruppo ne approfittò rinviando fino all'ultimo il ritorno a skyway e allora fu troppo tardi si erano messi d'accordo per accompagnare le diverse dozzine di indiani locali in partenza per il loro commercio autunnale gli indiani si guasce avevano atteso i bianchi sino all'ultimo istante poi erano partiti al gruppo non restò che aspettare qualche trasporto dovuto al caso nel frattempo sistemarono la concessione e raccolsero legna da ardere l'estate indiana era continuata come in sogno poi all'improvviso tagliente e acuto come uno squillo di tromba era arrivato l'inverno giunse in una notte e i cercatori si destarono al suono dell'unulato del vento degli scroci di acqua gelata degli scricchioli delle correnti che ghiacciavano le bufere seguitavano le bufere e negli intervalli c'era solo silenzio rotto solo dal rimbombo della risacca sulla spiaggia deserta orlata dal gelido candore della schiuma salata tutto andava bene nella capanna avevano raccolto polvere d'oro per circa 8.000 dollari e non potevano che essere soddisfatti gli uomini costruivano racchette da neve andavano a caccia di carne fresca per la dispensa e nei lunghi pomeriggi giocavano interminabili partite a guiste pedro adesso che le ricerche erano terminate edith passò agli uomini la cura del fuoco e la lavatura dei piatti dedicandoci ad accomodare calzini ed abiti nella capanna non si sentivano mai brontoli litisi o discussioni futili e gli uomini si congratulavano spesso a vicenda per la felicità generale del gruppo hans nelson era lento ma non si arrabbiava mai e da tempo edith si era conquistata la sua ammirazione senza limiti per la capacità di andare d'accordo con la gente herkey un tessano lungo e madro era insolitamente amichevole per essere un tipo malinconico e se non veniva messa in forza la propria convinzione che l'oro aumentava era una persona molto socievole il quarto socio del gruppo michael dennin contribuiva con il suo spiritaccio irlandese a tenere allegra la capanna era un uomo grosso e possente soggetto a improvvisi scoppi di rabbia per cose di poca importanza e dotato di un infallibile buon umore quando era sotto sforzo per cose gravi il quinto e l'ultimo socio del gruppo dacci era il buffone volontario del gruppo era pronto persino a farsi prendere in giro pur di tenere allegri i compagni sembrava che l'unico scopo della sua vita fosse quello di far ridere nessuna vita seria turbò mai la serenità della capanna e adesso che ciascuno aveva raccolto 1600 dollari con una breve estate di lavoro regnava lo spirito soddisfatto e sazio della prosperità poi accadde l'imprevisto si erano appena seduti alla tavola per fare colazione sebbene fossero già le otto ora che i lavori di estrazione al giacimento erano finiti era diventata un'abitudine far colazione più tardi una candela infilata nel collo di una bottiglia illuminava la tavola edith e hans sedevano a capotavola e da una parte con la schiena alla porta stavano herke e dacci il posto sull'altro lato era vuoto dennin non era ancora arrivato hans nelson guardò la sedia vuota scosse la testa e con un laborioso tentativo di umorismo disse è sempre il primo a venire a mangiare è molto strano forse è malato dov'è michael chiese edith si è alzato prima di noi poi è uscito rispose herke il volto di dacci si accese con aria furbesca finse di sapere perché dennin era assente e prese un'aria di mistero mentre gli altri chiedevano spiegazioni a voce alta edith dettò un'occhiata nella stanza degli uomini poi tornò a sedere hans la guardò ed edith scosse la testa non è mai arrivato tardi ai pasti disse non capisco aggiunse hans di solito ha una fame da cavallo molto male disse dacci scuotendo anche lui la testa in modo triste cominciavano a scherzare sull'assenza del socio che peccato esclamò dacci cosa chiesero gli altri in coro povero michael ripete dacci con aria addolorata bene allora cos'è successo a michael chiese herke non ha più fame si lamentò dacci ha perso l'appetito non gli piace più il cibo non sembrerebbe dal modo in cui ci caccia la testa fino alle orecchie osservò herke lo fa solo per essere gentile con la signora nelson ripetti subito dacci lo so lo so e fa molto male perché non è qui perché è uscito perché è uscito per aumentare l'appetito come aumenta l'appetito cammina a piedi nudi nella neve non lo so è il modo con il quale i ricchi danno la caccia all'appetito quando non c'è più e scappa via michael a 1600 dollari lui è ricco per questo non ha appetito e per questo gli dà la caccia se apri la porta vedi le sue impronte di piedi nudi nella neve no non vedrete l'appetito questo è il guaio quando vede l'appetito lo prende e viene a mangiare scoppiarono a ridere alle assurdità di dacci le risate si erano appena spente quando la porta si spalancò ed entrò dennin tutti si volsero a guardarlo aveva un fucile a pallini mentre lo fissavano lo mise a spalla e sparò due colpi al primo dacci crollò sulla tavola rovesciando la tazza di caffè con il ciuffo biondo immerso nel piatto di acqua e farina la fronte premeva sull'orlo inclinandolo di 45 gradi herke si stava alzando in piedi quando lo raggiunse il secondo colpo si abbatte a faccia in giù sul pavimento gridando un mio dio che gli si spense in gola con un gorgoglio era l'imprevisto hans e edith erano stupefatti sedevano alla tavola con i muscoli tesi gli occhi fissi come per incanto sull'assassino lo intravedevano appena attraverso il fumo della polvere e nel silenzio risuonava solo lo sgocciolio del caffè di dacci che si versava dennin aprì la culata del fucile e destrasse i bossoli scarichi tenendo il fucile con una mano con l'altra si frugava nelle tasche alla ricerca di nuove cartucce stava infilando le cartucce nel fucile quando edith nelson reagì passando all'azione era chiaro che dennin intendeva uccidere anche lei e hans per circa tre secondi era rimasta sbalordita paralizzata dall'orribile e inconcepibile forma in cui l'imprevisto si era presentato poi edith si alzò e lo affrontò lo aggredì in modo deciso balzando addosso all'omicida come un gatto e afferrandolo per la sciarpa con entrambe le mani l'urto della donna lo fece indietreggiare di diversi passi cercò di scostarla mantenendo la presa del fucile era difficile perché il corpo teso della donna era diventato quello di un gatto edith si gettò da una parte e stringendolo alla gola riuscì quasi a farlo cadere a terra dennin si raddrizzò girando velocemente su se stesso senza mollare la presa il corpo di lei seguì la sua torsione finché i piedi le si sollevarono da terra e volteggiò in aria con le mani ancora strette alla gola il vortice ebbe termine quando i due andarono ad urtare contro una sedia l'uomo e la donna piombarono a terra in una caduta rovinosa rotolando fino in mezzo alla stanza hans nelson affrontò l'imprevisto mezzo secondo dopo la moglie i suoi processi mentali e nervosi erano più lenti di quelli della donna era grande e grosso ma gli occorse mezzo secondo in più per capire decidere e passare all'azione edith era già balzata alla gola di dennin quando hans si alzò in piedi non disponeva però della fredda lucidità della moglie era cieco di rabbia pazzo di furore e l'attimo in cui balzò dalla sedia emise un suono che era per metà un ruggito e per metà un muggito i due avevano già iniziato a girare per la stanza quando hans cominciò a inseguirli raggiungendoli quando caddero al suolo senza per questo smettere di ruggire e di muggire hans piombò sull'uomo a terra e lo colpì con i pugni come un pazzo si trattava di vere e proprie mazzate e quando edith sentì il corpo di dennin rilassarsi abbandonò la presa e rotolò via sedette sul pavimento ansando e osservando quello che accadeva la furia dei colpi continuò ad abbattersi ma dennin non sembrava curarsene non si muoveva neppure allora edith si rese conto che dennin era svenuto gridò ad hans di smettere gridò di nuovo ma hans non l'ascoltava lo prese per un braccio ma la stretta riuscì solo ad ostacolarlo non fu un impulso razionale a spingerla a fare ciò che fece non si trattò di un senso di pietà o di obbedienza al non uccidere della religione fu piuttosto un vago senso della lezze l'etica della sua razza e dell'ambiente dove era cresciuta che la indussero a interporre il suo corpo fra il marito e l'assassino enorme hans smise di picchiare solo quando si accorse che i colpi cadevano sulla moglie si lasciò spingere da parte come un cane feroce ma obbediente si lasciò spingere dal padrone analogia andava al di là di questo rabbia di hans gli brontolava ancora in fondo alla gola come in un animale e diverse volte tentò di lanciarsi di nuovo sulla preda e ne fu impedito solo dal corpo di edith che svelta si metteva fra i due edith spinse il marito sempre più indietro non l'aveva mai visto in quelle condizioni e adesso aveva più paura di lui di quanta ne avesse avuta di denin nel pieno della lotta non riusciva a capacitarsi che quella bestia infuriata fosse il suo hans e con un fremito si rese conto che l'istinto la induceva a ritirarsi nel timore che hans come un animale selvaggio le azzannasse una mano per qualche secondo l'uomo cercò caparvio di tornare all'attacco muovendosi qua e là ed evitando di colpirla ma edith lo seguì decisa finché in lui non tornò ad accendersi un barlume di ragione e smise entrambi si alzarono a fatica hans barcollò appoggiandosi al muro con la faccia contratta e nella gola sempre quel brontolio profondo che passando i secondi si attenuò fino a spegnersi era il momento della reazione edith in piedi in mezzo alla stanza si torceva le mani ansimava e boccheggiava il corpo scosso da violenti sussulti hans guardava il vuoto ma edith posava gli occhi agitati sui vari dettagli di quanto era accaduto denin giaceva sul pavimento immobile presso di lui si trovava la sedia arrovesciata nel folle vortice parte del fucile con la culatta ancora aperta gli sporgeva da sotto nella mano destra stringeva le due cartucce che non era riuscito a infilare nel fucile e che non aveva abbandonato neppure nell'incoscienza harker giaceva faccia in giù sul pavimento dove era caduto quanta dacci era riverso sul suolo con i capelli biondi immersi nella poltiglia e il piatto ancora sollevato di 45 gradi quel piatto sollevato affascinava perché non cadeva era ridicolo non era naturale che un piatto di pappa stesse in piedi da solo anche se un paio di uomini erano stati uccisi settò uno sguardo a denin ma gli occhi le tornarono al piatto sollevato era ridicolo proprio l'impulso esterico di ridere poi si conto del silenzio dimenticò il piatto e desiderò con tutta se stessa che accadesse qualcosa lo sgocciolare monotono del caffè dal tavolo sul pavimento sottolineava il silenzio perché hans non faceva nulla perché non diceva qualcosa lo guardò e fece per parlare ma si rese conto che la lingua rifiutava di compiere il suo dovere in gola provava uno strano dolore e aveva la bocca secca impastata riusciva solo a guardare hans e lui a sua volta la guardò all'improvviso il silenzio fu rotto da un colpo secco metallico edith gridò dettando una rapida occhiata al tavolo il piatto era caduto hans sospirò come ridestandosi dal sonno il rumore del piatto e aveva riportati alla vita in un nuovo mondo la capanna costituiva il riassunto di questo nuovo mondo in cui da allora avrebbero dovuto vivere e muoversi la vecchia capanna era scomparsa per sempre l'orizzonte della vita aveva assunto un aspetto nuovo ed estraneo e imprevisto aveva stregato la faccia delle cose modificato la prospettiva mescolati i valori mischiato reale e irreale in una confusione sconcertante dio mio hans furono le prime parole di edith hans non rispose ma la fissò pieno di orrore e suoi occhi vagarono lentamente per la stanza come se si rendesse conto per la prima volta dei dettagli poi si mise il berretto e mosse verso la porta dove vai di casa edith piena di angoscia e di attenzione con la mano sulla maniglia si volse per metà rispondendole a scavare qualche fossa non lasciarmi hans con i suoi occhi vagarono per la stanza con questo ma le fosse prima poi dovrò scavarle disse hans non sai ancora quante obiettò disperata edith poi notò la sua indecisione aggiunse e poi verrò con te per aiutarti hans tornò verso il tavolo e con un gesto meccanico spense la candela poi presero in esame la situazione sia her che i cadacci erano morti e in modo orribile a distanza dalla quale erano state sparate le fucilate era infatti molto breve hans non volle avvicinarsi ad tennin ed edith fu costretta a condurre da sola l'esame non è morto disse ad hans hans si avvicinò e studiò l'assassino che hai detto gli chiese edith che aveva udito il brontolio sordo nella gola del marito ho detto che è una cosa schifosa che non sia morto rispose edith era curva sul corpo lascialo stare gli ordinò hans duramente con una voce strana lei lo guardò allarmata hans aveva raccolto il fucile di denin e lo stava caricando cosa vuoi fare ridò edith alzandosi in fretta hans non rispose ma lei vide il fucile salirgli all'altezza della spalla allora la donna afferrò le canne del fucile e le sollevò in alto lasciami stare ridò hans con voce rauca poi cercò di strapparle il fucile ma edith gli si accostò e gli si aggrappò hans hans svegliati gli gridò non fare pazzie ha ucciso harki e daci rispose hans e io uccido lui ma non è giusto disse edith c'è la lezze hans s'obbignò incredulo sulla potenza della lezze in quelle regioni ma continuò a ripetere con ostinazione ha ucciso daci e harki discussse la lungo ma in realtà parlò uno solo perché hans si contentava di ripetere ha ucciso harki e daci ma edith non poteva sfuggire alla propria educazione e al sangue che scorreva in lei a lei era stato trasmesso in eredità il rispetto della lezze e per lei una giusta condotta era uguale al rispetto della lezze non concepiva altro modo di comportarsi hans che si sostituiva alla lezze era per lei un'azione tanto poco giustificabile quanto le azioni commesse da dennin sostenne che due torti non fanno una ragione e che esisteva un solo modo di punire dennin ed era il modo legale quello imposto dalla società alla fine hans si arrese va bene disse fai a modo tuo e vedrai che domani o il giorno dopo ucciderà anche te e me edith scosse la testa e tese la mano per prendere il fucile hans fu sul punto di consegnarglielo ma esitò lascia che l'ammazzi pregò edith scosse di nuovo la testa e hans stava di nuovo per consegnarle il fucile quando la porta si aprì e un indiano entrò senza bussare con lui penetrò anche una raffica di vento e un turbine di neve i due si volsero e lo guardarono mentre hans stringeva ancora il fucile l'intruso osservò la scena senza un brivido con un'occhiata osservò morti e feriti senza la minima sorpresa e neppure un accenno di curiosità harki era disteso ai suoi piedi ma l'indiano non sembrò accorgersi di lui per quanto lo riguardava il cadavere di harki non esisteva molto vento disse l'indiano come per salutare tutto bene molto bene hans con il fucile ancora in mano fu certo che l'indiano attribuisse a lui quei corpi straziati guardò la moglie in modo supplichevole buongiorno naguk rispose edith con tono che tradiva lo sforzo no non molto bene molti guai addio per ora io ho molta furia disse l'indiano e uscì senza furia apparente evitando con cura la pozza rossa sul pavimento l'uomo e la donna si scambiarono uno sguardo pensa che la colpa sia nostra disse hans anzi che sia mia edith tacque per qualche secondo poi disse in fretta come si trattasse di una questione di affari non importa quello che pensa se ne occuperemo dopo adesso dobbiamo scavare due fosse e prima di tutto legare denin in modo che non scappi hans rifiutò di toccare denin ma edith lo legò saldamente mani e piedi poi lei e hans uscirono sulla neve il terreno era gelato neppure il piccone riusciva a scalfirlo per prima cosa raccolsero legna poi spazzarono via la neve e accesero un fuoco sulla superficie gelata dopo un'ora diversi centimetri di fango si erano scongelati li spararono via poi accesero un nuovo fuoco penetravano lentamente nel terreno a due o tre centimetri d'ora era un lavoro duro e faticoso il turbinare della neve impediva al fuoco di ardere bene mentre il vento infilandosi negli abiti gelava i loro corpi parlavano poco il vento ostacolava i discorsi oltre a chiedersi quale fosse il motivo del gesto di denin restavano silenziosi oppressi dall'orrore della tragedia a luna guardando verso la capanna hans disse di avere fame no non ora hans rispose edith non posso tornare alla capanna così com'è per cuocere un pasto alle due hans propose di accompagnarla ma lei lo invitò a continuare il lavoro e alle quattro le fosse erano pronte non erano profonde non più di mezzo metro ma servivano allo scopo si era fatto buio hans prese la slitta e i due uomini furono trascinati nell'oscurità e nella bufera ai loro sepolcri ghiacciati la processione funebre fu tutt'altro che piacevole la slitta affondava nella neve e faticavano per farla procedere l'uomo e la donna non avevano mangiato niente dal giorno prima ed erano sfiniti dalla fame e dalla fatica non avevano più la forza di resistere al vento in alcune occasioni le folate improvvise li gettavano a terra diverse volte la slitta si rovesciò e furono costretti a rimetterci sopra il lugubre carico gli ultimi 30 metri salivano per un pendio ripido che affrontarono carponi come cani da slitta affondando piedi e mani nella neve ma anche così il peso della slitta li gettò indietro un paio di volte e la slitta ruzzolò giù per la collina i vivi e i morti assieme alle corde in un groviglio spaventoso domani sistemerò due assi di legno con i nomi disse hans edith singhiozzava per il servizio funebre era riuscita solo a pronunciare poche parole slegate e il marito fu costretto a riportarla in braccio fino alla capanna tennin aveva ripreso i sensi si era arrotolato diverse volte sul pavimento nel tentativo di liberarsi guardò hans e edith con occhi accesi ma non tentò di parlare hans rifiutava ancora di toccare l'assassino rimase cupo a guardare edith che lo trascinava sul pavimento fino alla stanza degli uomini ma per quanto si sforzasse non fu capace di sollevarlo fino alla sua cuccietta lascia che gli spari e dopo non avremo più guai disse hans pregandola per l'ultima volta ma edith scosse la testa e riprese il suo sforzo con sua grande sorpresa il corpo si sollevò con facilità edith comprese che il marito si era calmato e la stava aiutando poi si dedicarono a ripulire la cucina ma il pavimento continuava a gridare la tragedia finché hans non piallò la superficie sporca di sangue e con i trusoli accese la stufa trascorsero alcuni giorni l'oscurità e il silenzio in conventi erano rotti solo dalle bufere e dal rombo della risacca sulla spiaggia hans obbediva al minimo ordine di edith tutte le sue iniziative erano state sospese edith aveva deciso di fare a modo suo con dannin e così hans lasciava tutto nelle sue mani l'assassino costituiva una minaccia continua sussisteva sempre infatti la possibilità che si liberasse dai legami e così erano obbligati a sorvegliarlo giorno e notte gli sedevano sempre accanto con il fucile carico in mano all'inizio edith provò con turni di otto ore ma l'attenzione continua era troppo pesante e allora cominciarono a darsi il cambio ogni quattro ore e poiché dovevano dormire i turni di guardia si prolungavano anche di notte l'intero periodo di veglia era dedicato alla sorveglianza di denin avevano appena il tempo di raccogliere la legna e di cucinare dal giorno della visita inopportuna di naguk gli indiani evitavano la capanna allora edith mandò hans alle loro baracche per chiedere loro di caricare denin su una canoa e di portarlo fino al più vicino insediamento o stazione commerciale ma il viaggio fu inutile in seguito edith andò di persona a parlare con naguk era il capo del piccolo villaggio profondamente consapevole delle sue responsabilità e in poche parole le spiegò la propria è un problema dei bianchi spiegò non dei sea wash se il mio popolo ti aiuta il problema diventerà anche dei sea wash quando i problemi dei bianchi si uniscono ai problemi dei sea wash questo nuovo problema diventa grande incomprensibile senza fine i guai non sono buoni il mio popolo non ha fatto niente di male perché dovrebbe aiutarti e mettersi nei guai e così edith tornò alla terribile capanna con quei turni interminabili di quattro ore a volte quando il turno toccava lei sedeva accanto al prigioniero con il fucile in grembo ma le accadeva di assopirsi si ridestava sempre con un sussulto afferrando il fucile guardando denin erano sussulti di origine nervosa e non le giovevano certo alla salute la paura di quell'uomo era tale che anche da sveglia se si muoveva sotto le coperte non poteva evitare il sussulto e la ricerca veloce del fucile stava avvicinandosi a un collasso nervoso e lo sapeva per primi a infastidirla furono gli occhi e così per riposarli doveva tenerli chiusi seguirono le palpebre colte da un dick nervoso e incontrollabile al tutto si aggiungeva il fatto che non riusciva a dimenticare la tragedia era prossima all'orrore come nella prima mattina quando l'imprevisto era entrato nella capanna e ne aveva preso possesso nella sorveglianza il prigioniero era costretto a serrare i denti e irrigidirsi anima e corpo hans soffriva in modo diverso era ossessionato dall'idea che fosse suo dovere uccidere rannin e ogni volta che si occupava dell'uomo legato e lo sorvegliava edith temeva che hans aggiungesse un altro nome insanguinato alla lista della capanna hans non cessava di insultare il prigioniero e di trattarlo con rudezza cercava di celare la sua mania omicida e diceva alla moglie prima o poi sarai tu a chiedermi di ucciderlo e non lo farò ne starei male ma più di una volta entrando nella stanza quando non era di turno sorprese i due uomini che si fissavano selvaggiamente nel volto di hans c'era la brama di uccidere in quello di dennin la ferocia e la crudeltà del topo in gabbia hans gli gridava allora svegliati e lui tornava in sé sorpreso pieno di vergogna ma assolutamente incorreggibile così hans divenne un altro aspetto che l'imprevisto aveva imposto ad edith all'inizio era stato solo un principio di condotta giusta verso dennin e la condotta giusta secondo lei consisteva nel tenerlo prigioniero fino a quando non avessero potuto consegnarlo a un tribunale legale ma adesso edith comprese che erano in gioco anche la sanità mentale e la salvezza di hans e non molto dopo scoprì che anche la propria forza e capacità di resistere facevano parte del problema stava crollando per la tensione il brazzo sinistro aveva sviluppato scatti e torsioni improvvise si rovesciava il cibo sul grembiule e non poteva più fidarsi del braccio malato ritenne che si trattasse di una forma di ballo di san vito ed ebbe paura dell'estensione rovinosa della malattia cosa sarebbe accaduto se fosse crollata a tutto ciò si aggiungeva l'orrore della visione di hans e dennin soli nella capanna dopo il terzo giorno dennin aveva ricominciato a parlare la sua prima domanda era stata cosa intendete fare di me e questa domanda dennin ripeteva ogni giorno e molte volte al giorno e sempre edith gli rispondeva che sarebbe stato trattato secondo la legge a sua volta la donna gli ripeteva la domanda perché l'hai fatto ma dennin non le rispose mai al contrario alla domanda reagiva con esplosioni di furia con scoppi di rabbia tirando la striscia di cuoio grezzo che lo legava e minacciandola di tutto ciò che le avrebbe fatto quando si fosse liberato cosa che secondo lui sarebbe riuscito a fare prima o poi in quei momenti edith sollevava entrambi i cani del fucile pronta a scaricarglielo addosso se si fosse liberato quanto a lei tremava e palpitava per le vertigini e lo shock ma col tempo dennin divenne più trattabile pareva a edith che fosse stanco di restare sempre supino prese a pregarla e a scongiurarla di liberarlo prometteva le cose più incredibili che non avrebbe fatto loro alcun male che sarebbe disceso lungo la costa per consegnarsi ai tutori della legge che avrebbe consegnato loro la sua parte d'oro e si sarebbe allontanato nel cuore del mondo selvaggio e che non sarebbe mai più riapparso fra la gente civile se l'avessero liberato si sarebbe ucciso da sé di norma queste suppliche si concludevano con una specie di delirio incontrollabile al punto che edith pensava che si trovasse sull'orlo di un attacco ma scuoteva sempre la testa negandogli quella libertà per la quale dennin si spingeva sino ai limiti della pazzia trascorsero altre settimane e dennin divenne sempre più trattabile la sua stanchezza crebbe di giorno in giorno sono stanco così stanco ormorava muovendo la testa a destra e a sinistra come un bambino permaloso poco dopo cominciò a pregarla di ucciderlo di chiedere ad hans di ammazzarlo per toglierlo da quella sofferenza insopportabile in modo che potesse riposare per sempre la situazione stava diventando rapidamente impossibile il nervosismo di edith non le concedeva tregua e lei sapeva che il collasso avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi momento non riusciva neppure a riposare per la paura che hans mentre lei dormiva uccidesse dennin sebbene gennaio fosse già iniziato sarebbero corsi mesi prima che una qualsiasi goletta commerciale si ancorasse nella baia inoltre non avevano rivisto di suvernare nella capanna il cibo cominciava a scarseggiare e hans non poteva andare a caccia per fare scorta di carne erano incatenate alla capanna dalla necessità di sorvegliare il prigioniero occorreva fare qualcosa edith se ne rendeva conto si sforzò di considerare di nuovo il problema non riusciva a scuotersi di dosso l'eredità della sua razza la legge che le scorreva nel sangue e al cui rispetto era stata educata sapeva che qualsiasi cosa facesse doveva essere fatta secondo la legge e nelle lunghe ore di guardia un fucile sulle ginocchia l'assassino inquieto accanto a lei e fuori l'urlo delle bufere svolse alcune originali ricerche sociologiche ed elaborò una propria teoria sull'evoluzione della legge pensò che in fondo la legge non era niente di più del giudizio e del volere di un qualsiasi gruppo di persone il numero non aveva importanza esistevano si disse piccoli gruppi come la svizzera e grandi gruppi come gli stati uniti inoltre riflette la grandezza di questi gruppi non contava in un determinato paese potevano vivere solo 10.000 persone ma il loro giudizio e volere costituiva la legge di quel paese e allora perché mille persone si chiese non potevano essere un gruppo e se mille potevano perché non 100 perché non 50 5 perché non 2 ebbe timore delle sue conclusioni e ne parlò con hans all'inizio il marito non capiva ma quando comprese fu lui stesso a portare prove convincenti parlò delle assemblee dei cercatori in cui tutti gli uomini di una certa località si radunavano formulavano una legge e si incaricavano di renderla esecutiva potevano essere anche solo 10 o 15 in tutto disse hans ma la volontà della maggioranza diventava legge per tutti quei 10 o 15 e chiunque violasse quel volere veniva punito alla fine edith comprese cosa doveva fare dennen doveva essere impiccato e hans fu d'accordo con lei fra di loro essi costituivano la maggioranza di quel gruppo e il volere del gruppo era che dennen fosse impiccato nell'esecuzione di questo volere edith fece del suo meglio per osservare le forme regolari ma il gruppo era tanto piccolo che lei ed hans dovettero assumere gli incarichi di testimoni giuria giudici ed esecutori della sentenza edith accusò formalmente dennen dell'uccisione di daccio e di harkey e nella sua cuccetta il prigioniero ascoltò la sua testimonianza poi quella di hans dennen rifiutò di dichiararsi colpevole o non colpevole e rimase silenzioso quando edith gli chiese se avesse qualcosa da dire in sua difesa restando seduti edith e hans pronunciarono un verdetto di colpevolezza poi come giudice la donna lesse la sentenza e tremava la voce le palpebre si contraevano ed il brazzo sinistro sussultava ma ce la fece michael dennen entro tre giorni sarà impiccato per il collo finché morte non sopravvenga tale fu la sentenza dennen emise un sospiro di sollievo poi rise in tono di sfida e disse penso che questa dannata cuccetta non mi spaccherà più la schiena ed è già una consolazione con la sentenza un senso di sollievo si comunicò a tutti loro e specialmente a dennen abbandonò l'astio e l'insolenza e cominciò a parlare da uomo civile con i suoi carcerieri mostrando di tanto in tanto persino lampi dell'arguzia di un tempo inoltre trovava grande soddisfazione quando edith gli leggeva la bibbia la donna sceglieva passi del nuovo testamento e dennen si interessò vivamente alla storia del figliol prodigo e del ladrone sulla croce il giorno precedente a quello dell'esecuzione quando edith gli ripete la solita domanda perché l'hai fatto dennen rispose molto semplice pensavo che ma edith lo interruppe di colpo mi chiese di aspettare e corse al letto di hans era il suo turno di riposo e hans si svegliò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi va gli disse edith va a chiamare naguk e un altro indiano michael vuole confessare falli venire prendi il fucile e se ti serve persuadili con quello mezz'ora dopo naguk e suo zio hadik van furono introdotti nella camera della morte erano venuti poco volentieri e hans con il fucile li teneva a bada come un pastore naguk disse edith non ci saranno guai né per te né per il tuo popolo devi solo sederti ascoltare e capire e così michael dennen condannato a morte rese pubblica confessione del suo delitto mentre parlava edith trascriveva le sue parole e hans faceva buona guardia alla porta per evitare che i testimoni scappassero era assente da casa da 15 anni spiegò dennen ed era sempre stata sua intenzione di tornare con un sacco di soldi e far felice la madre per il resto della vita e come avrai fatto con 1600 dollari chiese volevo tutto l'oro tutti gli 8000 dollari pensai che così avrai fatto ritorno in grande stile cosa c'è di più facile disse a me stesso li ammazzo tutti e a scaguai racconto che sono stati gli indiani e me ne torno in irlanda e così ho cominciato ad uccidere ma come diceva sempre herkey ho fatto il passo più lungo della gamba e sono inciampato questa è la mia confessione ho fatto il mio dovere verso il diavolo e ora che dio lo voglia farò il mio dovere verso dio naguk e harikwan avete udito le parole dell'uomo bianco di sé edita gli indiani le sue parole sono scritte su questo foglio e voglio che vi facciate un segno così in modo che i bianchi sappiano che avete udito i due siwash fecero una croce accanto ai propri nomi poi venne richiesto di tornare il giorno dopo con tutta la tribù per testimoniare altre cose poi fu concesso loro di andarsene le mani di dennin vennero liberate per il tempo necessario a firmare il documento poi nella stanza si fece silenzio anser inquieto e edith molto agitata dennin restò disteso sulla schiena a fissare il soffitto coperto di muschio e adesso farò il mio dovere verso dio mormorò leggimi qualcosa dal libro aggiunse con un lampo di allegria forse mi aiuterà a dimenticare questa cuccietta venne il giorno dell'esecuzione chiaro e gelido e soffiava un vento freddo che infilava il ghiaccio sotto gli abiti e dentro la carne fino alle ossa per la prima volta dopo molte settimane dennin si alzò in piedi i muscoli erano rimasti inattivi così a lungo e aveva perso l'abitudine a restare in posizione retta che riuscì appena a stare in piedi ondeggiava avanti e indietro barcollava e si aggrappò edith con le mani legate certo mi gira la testa disse ridendo debolmente un attimo dopo aggiunse sono contento che sia finita quella dannata cuccietta stava per ammazzarmi quando edith gli infilò il berretto di pelliccia ed ebbe cura di abbassare i paraorecchi dennin rise e disse perché lo fai fuori il freddo è terribile ma fra dieci minuti cosa vuoi che importi al povero michael dennin di avere un orecchio gelato edith si era fatta forza per quest'ultima prova e le parole di dennin furono un duro colpo alla padronanza di sé fino a quel momento infatti l'era sembrato di vivere in un sogno ma la verità brutale di ciò che dennin aveva detto ne aprì gli occhi su quanto stava per accadere la sua angoscia non sfuggì all'irlandese mi dispiace di addolorarti con i miei discorsi stupidi disse l'uomo afflitto non volevo dire niente di particolare questo è un grande giorno per michael dennin e lui è felice come una lodola cominciò a fischiare allegramente poi il fischio divenne lugubre e già so del tutto vorrei che ci fosse un prete disse pensieroso ma giunse subito ma michael dennin è un veterano e non rimpiange le comodità quando si mette sulla pista era così debole e disabituato a camminare che quando uscì dalla capanna il vento lo fece quasi cadere hans e edith gli camminavano di lato e lo sorreggevano mentre lui raccontava storielle divertenti cercando di tenerli allegri interrompendosi solo una volta quanto bastava per accordarsi sull'invio alla madre della sua parte di oro si arrampicarono su una collina bassa e raggiunsero una radura fra gli alberi qui disposti solennemente in cerchio intorno a un varile posato sulla neve c'erano nagug adikvan e tutti si wash bambini e cani compresi venuti a vedere come agiva la legge dell'uomo bianco a poca distanza si apriva una fossa scavata da hans accendendo un fuoco sulla terra gelata denin gettò un'occhiata da esperto ai preparativi notando la fossa il varile la grossezza della corda e la solidità del ramo al quale era appesa di sicuro hans se fosse toccato a te non avrei saputo fare di meglio rise forte alla sua spiritosaggine ma il volto di hans era congelato in un pallore mortale che nulla avrebbe potuto modificare se non le trombe del giorno del giudizio hans stava male solo allora si rendeva conto di cosa significava spedire all'altro mondo un compagno al contrario edith lo sapeva da tempo ma il fatto non le rendeva il compito più semplice era piena di dubbi e ignorava se avrebbe resistito abbastanza per vedere la fine provava continui impulsi di gridare di urlare gettarsi nella neve coprirsi gli occhi con le mani voltarsi e correre via ovunque lontano solo uno sforzo supremo dello spirito ne permise di stare in piedi di andare sino in fondo ne provò gratitudine per il modo con il quale denin l'aiutava dammi una mano disse denin ad hans e col suo aiuto salì sul barile poi si chinò in modo che edith potesse passargli il cappio intorno al collo quindi si rimisa in piedi mentre hans gettava la corda intorno al ramo michael denin hai qualcosa da dire chiesa edith con voce chiara ma tremante contro la sua volontà denin mosso i piedi sul barile abbassa gli occhi e disse timido come un giovane che si dichiara una ragazza chiarendosi la gola sono contento che sia finita mi avete trattato da cristiano e vi ringrazio di tutto cuore per la vostra gentilezza possa dio accoglierti peccatore pentito gli disse edith si le dispose con voce profonda in contrasto con quella sottile di lei ed io mi riceva peccatore pentito addio michael gridò edith con voce disperata poi si scagliò di peso contro il barile ma non riuscì a rovesciarlo hans presto aiutami gridò debolmente avvertiva che le ultime forze la stavano lasciando mentre il barile le resisteva hans le fu accanto con un balzo e il barile rotolò via sotto i piedi di michael denin edith si voltò cazzandosi le dita nelle orecchie poi cominciò a ridere con voce roca acuta metallica e hans ne rimase sconvolto come non lo era mai stato in tutta la durata della tragedia il collasso di edith si era verificato persino nel suo attacco isterico lo sapeva ed era contenta di essere riuscita a resistere sino alla fine indietre jobar collando verso hans portami alla capanna riuscì a dire e fammi riposare aggiunse fammi solo riposare 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 con il braccio di hans intorno alla vita che la sosteneva e ne guidava ai passi edith nelson si allontanò nella neve ma gli indiani rimasero solennemente a guardare come agiva la legge dell'uomo bianco che costringeva un uomo a danzare in aria a a